ciao ragazzi oggi trekking delle odde ora stiamo seguendo il sentiero numero 6 che ci porterà al rifugio e capiremo lì dove andare capiamo abbiamo parcheggiato il parcheggio costa 8 euro sto dormendo e io ti ha pagato io grazie ciao 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 perfetto arrivati a questo punto andiamo per il sentiero 35 per raggiungere il rifugio delle odde comunque la salita è stata ben impegnativa soprattutto perché abbiamo trovato una giornata molto calda unico unico uno più unico spigliare il risultato Grazie a tutti. Siamo arrivati in questo punto bellissimo. Siamo arrivati in questo punto bellissimo. Siamo arrivati in questo punto bellissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.